E' il mio compleanno, posso esprimere un desiderio? Baciami, ti amo. Tu sei l'unica ragione che ho per continuare a vivere, se questa è vita. Ci siamo, ci siamo! Buon compleanno, buon compleanno. Apri i regali. C'è anche una torta. E' una torta per 50 persone. Vogliono neanche l'assaggiare. Grazie. Mi sono tagliata. Quello che è successo con Jasper non è niente. Rispetto a quello che poteva succedere, avevo promesso di non metterti più in pericolo. Questa sarà l'ultima volta che mi vedrai. Quanto sei importante per lui. Ti ha abbandonata qui, in difesa. Ma io non posso farci niente. Tu sei così appetitosa. Che io non posso farci niente. Ho, Romano. Quanto sei. Che io non posso farci niente.